Grande partecipazione di pubblico alla 68esima edizione del Presepe Vivente di Rivisondoli, che si è svolta anche quest'anno sulla piana di Piae Lucente. A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione della Natività, ha contribuito l'abbondante revicata dei giorni scorsi, che non ha spaventato gli spettatori a corsi per assistere all'evento da ogni parte dell'Abruzzo e da fuori regione. Grande freddo, ma cosa si sente interpretare San Giuseppe oggi? Vestire oggi i panni di un San Giuseppe in uno scenario così suggestivo è sicuramente una brandissima emozione. Sono veramente contento di aver interpretato questo ruolo. Questo tempo avvalorizza ancora di più quello che è lo scenario e le emozioni sono ancora più forti. E lei è la Madonna di quest'anno. Cosa sente? Quali sono le emozioni della serata? Allora, anch'io come Luca sono molto molto emozionata, sono contentissima per essere stata scelta e per me è un onore. Quanti anni hai? Ho 18 anni. E Leon si è comportato bene? Sì, è buono buono. Dammino? Sì, sì, è un attore. Com'è stata questa prima esperienza nel presepe di Rivisondoli? La mia no, perché ho partecipato anche da piccola, poi per un po' mi sono stoppata e quest'anno ho ricominciato a fare l'angelo. Invece voi? Allora, per me è stata una cosa molto importante perché non l'avevo mai fatto e quindi è stata un'emozione fortissima. Il messaggio di questa sera è un messaggio di speranza, di vita, che è racchiusa nella tenerezza di questo tenero bambino che ci fa rivivere proprio la grandezza della nostra fede. Quindi nonostante il freddo è un grande successo questa sera. Quali sono state le novità di quest'anno? Il Signore ci ha premiato perché oggi ci ha concesso comunque di poter fare la manifestazione nonostante, come potete vedere, nonostante metri di neve accumulati e quindi condizioni precarissime per fare qualsiasi tipo di manifestazione, soprattutto all'aperto poi. E' il primo anno qui? No, è il secondo veramente. Di dove sei? Sono di Genova e faccio l'animatrice qua al Cipriani Parco Hotel. Ti piace questa manifestazione? E' molto suggestiva ogni anno, è sempre bello ritornarci. Sì, è il primo anno che siamo qui e devo dire che è molto suggestivo. Di dove siete? Provincia di Teramo, Roseto degli Abruzzi. Al mare ma fa freddo anche da noi, non c'è la neve e quindi siamo venuti qui in montagna, abbiamo queste splendide montagne vicino casa e ne abbiamo approfittato. Ciao! 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 Ciao!